Buongiorno! Buongiorno! Come si chiama? Spertizio! Cerchiamo un istruttore per la palestra comunale! In che tipo di palestra ha lavorato? Tutte! Che sport sa fare? Tutti! Cosa è disposta a fare pur di lavorare? Tutto! Bravo! Grazie! Fare da sparring partner ai pugili? I denti non mi servono! Bravo! Grazie! Avvicinare i ragazzi al mondo del doping? L'importante è vincere! Bravo! Grazie! Correre insieme ai maratoneti? Mi piace sfidare l'infarto! Bravo! Grazie! Esperienze professionali? Ho vinto l'ora al giavellotto! Quanto ho lanciato? 3 chilometri! E come ha fatto? Quello che ho centrato si è messo a correre! Bravo! Grazie! Cos'altro ha fatto? Parapendio per 5 anni! E poi? Sono atterrato! Bravo! Cos'altro ha fatto? Infantino ma mi hanno squalificato! Perché? Dopavo il cavallo col Viagra! Come se ne sono accorti! Lasciava il solco! Bravo! Grazie! Teste! Cultura generale! Ha inventato la radio! Claudio Cecchietto! Bravo! Grazie! Il piave mormorò! Viva la Mona! Bravo! Grazie! Italia! E non lo dice! Bravo! Grazie! Lei! Sentiamo un po'! Lei quanti anni ha? 33! Il posto è suo! Grazie! Sarò il migliore! Peccato! Troppo ottimista! Avanti il prossimo! Bravo! Grazie! Grazie!